Ok, eccoci puntuali a parlare di Landog della serie regolare. Numero 439, L'invasione silenziosa. Bel titolo, bellissima copertina dei fratelli Cestaro, soggetto e sceneggiatura di Barbara Baraldi, disegni di Davide Furnò. Furnò è un talento fuoriscala e devo dire che qui regala delle sequenze di suggestione assoluta anche in termini proprio di montaggio delle tavole. Adesso ve ne ho fatta vedere una particolarmente suggestiva che spero non anticipi troppo i contenuti dell'album, ma secondo me non li anticipa. Nella nota introduttiva di Recchioni si citano praticamente tutti i classici fantascientifici che in qualche modo alludono alla paranoia da guerra più o meno fredda. Dal precursore Robert Heinlein al Jack Finney dell'invasione degli ultracorpi per arrivare al John Whedon che ha avuto tra l'altro con il suo Il villaggio dei dannati una recentissima pubblicazione italiana dopo tanti anni che il romanzo era introvabile. Tutti i libri di cui ho parlato hanno avuto un appendice cinematografica piuttosto rilevante. Pensiamo naturalmente all'invasione degli ultracorpi di Don Siegel con i suoi remake e al film di Wolf Rilla tratto dal villaggio dei dannati poi rifatto da John Carpenter. John Carpenter tra l'altro è un nome tutelare dell'albo e adesso vedremo perché esaurito questo cappello che dà le ragioni un po' sempre presenti, cinefile di tante storie di Dylan Dogg diciamo che c'è anche un altro referente che non viene citato da Recchioni ma è un referente interno ed è il numero 62 della serie regolare uno dei capolavori della serie cioè i vampiri scritto da Tiziano Sclavi e disegnato da Carlo Ambrosini è un albo tra l'altro di cui ho anche parlato trovate il video nella playlist dedicata a Dylan Dogg nella sotto categoria retrospettiva Bonelli dove vado a pescare diciamo delle cose della Bonelli di qualche anno fa i vampiri citava esplicitamente e si vivono di John Carpenter e il film di Carpenter è presentissimo in quest'albo c'è una sequenza anzi dove sembra che proprio si è un po' come se si prendesse un'inquadratura del film e la si calasse dentro l'albo dove Dylan e la protagonista di quest'albo Sherry attraversano una strada e sullo sfondo un politicante arringa la folla con parole che non sono molto dissimili peraltro da quelle che sentiamo fare dal nostro governo negli ultimi tempi e lì arringa e quindi diciamo Dylan Dogg torna nella sua serie regolare a esplorare un topos dell'horror che confina con la fantascienza già esplorato quindi diciamo non abbiamo a che fare con nulla di nuovo ma questo non è assolutamente un problema nel complesso io posso dire che la storia a me è piaciuta è bella anche se finisce un po' in levare trovo che il colpo di scena finale che le ragioni di tutto ciò che si scatena all'interno dell'albo e che vengono chiarite nelle ultime pagine e che ovviamente per ovvi motivi non dirò non mi sembrano all'altezza di quello che si stava preparando ecco e anche il diciamo così il movente come dire il casus belli che muove un po' la macchina narrativa nelle vesti di quelli che dovrebbero essere i villen dell'albo non mi sembra così giustificata non diciamo fatico a forse ecco Barbara Baraldi ha voluto diciamo muoversi con un passo felpato allusivo e metaforico ecco diciamo così non mi è sembrato insomma che si chiarisse tutto come si doveva così come anche un personaggio Frederick che viene presentato come un personaggio risolutivo enigmatico e anche portatore diciamo di un colpo di scena rispetto alla sua stessa veste all'interno dell'albo ecco non mi sembra un personaggio centratissimo lo trovo un pochettino fuori fuoco ed è d'altra parte è lui che viene delegato lo spiegone finale che ci dice un po' che cosa si agita un po' dietro dietro quest'albo che racconta che parte molto bene peraltro e parte in medias res con quei con quelle sequenze d'impatto dove così che anche qui ci ricordo un pochettino i vampiri perché abbiamo una stazione radio assediata dalle forze dell'ordine che così appaiono quasi più minacciose del sequestratore che è all'interno di questa stazione radio che si chiama Wayne ed è sostanzialmente una sorta di 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 visionario che crede di vivere calato in un complotto e che è anche diciamo così abbastanza inquietante come personaggio ma soprattutto è inquietante ciò che porta con sé ciò che vediamo noi quando vediamo con i suoi occhi lui soffre di un disturbo che si chiama prosopagnosia io ho dovuto leggerlo perché insomma con prosopagnosia mi resterà in mente per altri sette secondi a contarli è praticamente un disturbo che non permette di distinguere bene i volti e in effetti quando noi assistiamo alle soggettive di Wayne ecco che Furno ci offre questi primi piani così inquietanti quasi anche un po' linciani di volti che sembrano essere sfocati o il risultato diciamo così della visione di una videocassetta molto rovinata naturalmente questa vedere le persone così e qui non possiamo non pensare all'estrivo di John Carpenter è il risultato di vedere in modo chiaro e limpido attraverso la realtà paradossalmente e anche qui se vogliamo siamo già abituati a questo dal grande albo i vampiri di cui parlavo laddove le fattezze delle chiamiamole così di queste entità qui per un certo potremmo pensare che sono alieni la vampiri appunto erano rivelate agli occhi soltanto di poche persone per motivi precisi ecco in questo caso insomma questo disturbo fa di Wayne quasi un folle sapiente che anche come personaggio rientra in una tipologia di personaggi se vogliamo molto presente nella fiction in senso lato degli ultimi anni dalle serie televisive al fumetto passando al cinema cioè proprio quello del complottista che sostiene appunto tesi impossibili da accettare ma di fronte ai quali anche i diciamo i protagonisti poi delle storie devono in qualche modo piegarsi ad accettarli nell'album in questione l'invasione silenziosa diciamo che la risoluzione ci fa pensare che lo stesso Dylan abbandoni le armi della razionalità se così vogliamo chiamare il metodo indagativo di Dylan che per forza di cose di razionalità deve fare a meno è un termine di comodo per sposare lui stesso una certa forma in qualche modo una certa forma mentis complottista quindi a me è sembrato sintetizzando molto un albo che regge bene per tre quarti con anche tra l'altro un personaggio femminile interessante Sherry e che gioca male le sue carte alla fine anche perché e qui diciamo c'è un coinvolgimento di Grouch attivo e coinvolgere Grouch è sempre un rischio perché chi come sclavi sapeva usarlo magnificamente negli ultimi anni abbiamo assistito per esempio all'uso che ne ha fatto secondo me molto intelligente molto creativo proprio Lorenzo Palloni e quello invece che io ho trovato abbastanza tremendo di Simeoni qui diciamo lo trovo non dico che la Baraldi l'abbia usato male assolutamente diciamo che lo trovo leggermente sopra le righe ecco quel leggermente sopra le righe che sposta la tensione dell'albo da una tensione orrorifica diciamo a un qualcosa di più diciamo così disimpegnato la zampata finale che mi è piaciuta molto e di questo do atto a a a Barbara Baraldi e le faccio tanto di cappello è proprio la chiusa la chiusa l'ultima pagina con anche il come dire un arrendersi del personaggio di Sherry o più che un arrendersi forse lo lo chiamerei un rientrare nei ranghi di un personaggio che per tutto l'albo si è segnalato come anticonformista spero dicendo questo di non rivelare troppo ma non credo ultima cosa che va all'attivo nella colonna inattivo dell'invasione silenziosa si torna veramente questo va detto a un Dylan Dog fortemente fortemente politico al Dylan Dog che si schierava senza reticenze cui Tiziano Sclavi ci ha abituato e che nel corso degli anni diciamo nel si era si era un po' questa questa particolarità del personaggio si era un pochettino opacizzata tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata